Bene, abbiamo due ospiti d'eccezione, due celebrità apprezzate non solo in Italia ma anche all'estero. Assolutamente sì, come ho anticipato appunto all'inizio, ho il piacere di avere qui Domenica Zamara, cantante lirica internazionale, gira il mondo e oggi ci ha deliziato anche della presenza del maestro... Maestro Carrocci, grazie intanto. Maestro Carrocci, grazie per essere qua e Domenica, cosa ci presentate? Carissimi amici, siamo innanzitutto onorati di essere tra voi, di rappresentare il grande compositore Maulo Giuliani, dare questo onore a Lucio Dalla, Ombre a Mene, amico e piante, maestro Carrocci. Tratto naturalmente dal vostro ultimo lavoro discografico, Ombre a Mene, quindi ci fate questo bel regalo musicale. Un grande applauso! Prego! Ombre a Mene, amico e piante, col mio bello il corromonte, ombre a Mene, amico e piante, col mio bello il corromonte. Un grande applauso! a lui vuole un assaggiero i che torni e che mi renda quella pace che non vuoi i che torni e che mi renda quella pace che non vuoi i che torni e che mi renda quella pace che non vuoi e che torni e che mi renda e che torni e che torni e che mi renda